Continuiamo a parlare di rifiuti, noi spesso ci siamo occupati di portare avanti una campagna che è quella di sempre di Lega Ambiente, cioè della differenziata sui rifiuti. E quindi parleremo oggi dei comuni più ricicloni. Buongiorno, bentornato Roberto Scacchi, presidente di Lega Ambiente Lazio. Allora, veramente voi sono anni che vi battete perché la raccolta differenziata porta a porta sia estesa quanto più possibile, perché quella può essere la svolta nel sistema dei rifiuti. Voi avete fatto uno studio, i comuni ricicloni, qual è il risultato? Beh, che se si fa il porta a porta adeguatamente si raggiungono obiettivi di raccolta differenziata molto importanti e li vediamo sempre più raggiunti in tanti comuni della nostra regione. Quest'anno presentiamo il nostro rapporto, contenti che il numero di comuni ricicloni che hanno superato il 65% di raccolta differenziata continui a salire. Sale, diventano 92 comuni ricicloni. Il comune migliore è Castelnuovo di Porto. Ah, quindi la migliore performance in questo senso è Castelnuovo di Porto. Lo vogliamo dire che voi questi dati li presenterete tra qualche ora, no? In Via Palestro, a Villa Palestro. E ce li state fornendo adesso in anteprima, grazie. È un anteprima, li presenteremo durante il nostro ecoforum che svolgeremo oggi a Villa Palestro. E sarà una giornata di premi e di ringraziamenti anche alle amministrazioni che hanno raggiunto... Castelnuovo di Porto è il migliore, ma il peggiore chi è? Beh, ce ne sono tanti che hanno un bassissimo numero di raccolta differenziata. Uno su tutti, grande. Civita Vecchia, fermo intorno al 6% di raccolta differenziata. Dati ISPRA, non dire cambiente, che ci fa pensare che lì debba succedere per forza qualcosa di positivo, prima o poi, perché così non andiamo da nessuna parte. Anche perché se continuiamo a non fare la differenziata, abbiamo ancora sul groppone da smaltire in discarica e termovalorizzazione tutta l'indifferenziata che produciamo. Purtroppo, questi sono i dati. Per la prima volta quest'anno vi siete anche occupati di Roma, di Roma Capitale, e quindi dei vari municipi. Chi fa meglio la raccolta differenziata e chi no? Beh, il municipio migliore in termini di percentuale di raccolta differenziata, secondo i dati AMA, è il nono municipio, che è l'unico municipio che ha superato il 65% di pochi punti in percentuale. Peraltro, guarda caso, è anche il municipio con la raccolta porta a porta più spinta, dove oltre l'80% delle utenze ha il conferimento porta a porta domestico. Questo è un chiaro segnale a chi dice che il porta a porta non è la soluzione. Il peggiore dei municipi in termini di raccolta differenziata è il 14esimo municipio. Non sono dati relativi alla gestione dei municipi in quanto tali, perché non hanno un ruolo in questo ambito, ma sono molto significativi su come va fatta la raccolta differenziata a Roma. Quindi c'è dove funziona. Per chiudere, Roberto, da poco ci siamo occupati del TMB Salario, c'è un accordo a portare i rifiuti di Roma un po' dappertutto, con Leferro, Apria, forse Piemonte, Toscana, Abruzzo, ma Roma può stare senza un impianto? No, assolutamente no, è indecente. Vediamo continuare a partire oltre 160 auto articolati al giorno. A fronte di una regione che è migliore, quest'anno per la prima volta il Lazio ha prodotto meno di 3 milioni di tonnellate di rifiuti annui dopo 15 anni che superava quella cifra. A fronte di questo Roma continua a essere veramente un disastro in questo ambito e i 160 auto articolati portano i rifiuti dovunque. A causa di questo incendio continua il conferimento fuori ambito e pesiamo con i nostri dati clamorosamente negativi. Un impianto ci vuole. Tanti impianti ci vogliono a Roma. Grazie allora Roberto Scacchi, grazie per essere stato con noi. Noi cambiamo argomento.